Sul tema dei rifiuti il consigliere regionale del PD Paolo Campo chiede con forza la chiusura del ciclo e invita alla massima cautela nel dare il nulla osta all'impianto di compostaggio di Sansevero. Il tema dei rifiuti è un tema complicatissimo sul quale io, anche al di là del mio ruolo di consigliere regionale, anzi prima anche che fossi consigliere regionale, anche da sindaco della città, ho sempre invocato fosse affrontato con molta prudenza ma con grande senso di responsabilità. Senso di responsabilità vuol dire che questo è un ciclo che va concluso, è un ciclo che va chiuso e va chiuso tenendo conto della necessità di una dotazione impiantistica razionale, della necessaria pubblicizzazione di alcuni interventi, perché le vicende di questi giorni ci dicono quanto anche l'invocatissimo e ciò che sembrava salvifico, l'impianto di compostaggio, vada guardato con estrema attenzione, sia dal punto di vista dell'economicità, sia dal punto di vista anche della necessità di controlli appropriati, sia dal punto di vista delle dimensioni. So per esempio la possibilità dell'esistenza di un impianto assolutamente spropositato a Sansevero, anche questa è un'iniziativa privata, giustamente i privati dicono noi dobbiamo far quadrare i conti, quindi abbiamo bisogno di produrre una tale quantità di compost che ci metta nelle condizioni di far quadrare i conti e noi tanto compost, tanto rifiuto umido non ce l'abbiamo nemmeno in provincia di Foggia. Quindi ci vuole estrema attenzione, estrema cautela e ci vuole, e dobbiamo fare in fretta, un piano che individui con chiarezza e nell'immediatezza quali sono le necessità impiantistiche di cui ha bisogno la provincia di Foggia. Teniamo conto che un termovalorizzatore già ce l'abbiamo, che un impianto per la produzione di CIPDR già ce l'abbiamo in provincia di Foggia. avremmo l'impianto ubicato a Foggia per il trattamento e per la selezione dei rifiuti che dovrebbe partire, ci servono un paio di discariche, non ci serve granché, però ciò che si deve fare va fatto in fretta.